Cari figli, fratelli e sorelle, buongiorno per tutto il giorno. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Martino di Tur Vescovo. Auguriamo buona festa a tutti quanti che si chiamano Martino. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti 11 a 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, li vennero incontro dieci lebrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce, Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro, andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gravoce. E si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò. Nonna, se non sono stati purificati dieci. E gli altri nove, dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero. Egli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Ecco, carissimi, in questo brano potremmo sottolineare due cose. La prima cosa è la guarigione. Abbiamo sentito, abbiamo osservato, che Gesù non ha toccato questi dieci lebrosi. Ha detto soltanto di andare a presentarsi al sacerdote. Perché sono il sacerdote che può attestare la malattia e la guarigione. Così possono, cioè, questi lebrosi possono essere integrati nella comunità. E allora, solo con la loro fede, sono stati purificati. Anche tu, caro mio, cara mia, se tu credi in Dio, vedrai la sua gloria. Se tu ti abbandoni nelle mani del Signore, vedrai la gloria di Dio. E come si fa ad abbandonarsi al Signore? Ascoltare la sua parola e metterla in pratica. La seconda cosa, il ringraziamento. Impariamo a dire grazie a Dio, grazie a tutte le persone che ci aiutano. Dire grazie è un segno di riconoscimento. Allora non diventiamo egoisti. Chiediamo a Dio di aumentare la nostra fede. Vi auguro una buona e santa giornata. Dio è buono in ogni momento, in ogni momento. Dio è sempre buono.